Ciao a tutti da Poderak, bentornati qui su Eurotrack Simulator 2 Oggi proviamo per la prima volta lo Scania elettrico Mi sono allontanato un pochettino dalla città giusto per muoverci un pochino Sentire con mano come si comporta questo veicolo Che è targato vedo con 45S Scania Electric Stiamo in questo momento trasportando dei camper in piena silenziosità Sentiamo solo i rumori della strada In quanto questo è il secondo camion elettrico che andiamo a utilizzare nel gioco insieme allo Non Scania, Renault Quindi Renault, Scania Ma attenzione non vi preoccupate perché arriveranno a brevissimo dei nuovi camion Sto utilizzando come sempre il mio bellissimo Moza R5 che vi lascio qui sotto in descrizione Che mi permette di godere al massimo di questo simulatore Sto in questo momento spingendo tutto il gas per vedere anche il gas Quanto siamo abituati ad utilizzare determinati termini E non siamo abituati a premere tutto il pulsante dell'acceleratore della nostra lavatrice Dai premiamo questo acceleratore, godiamoci un po' questo veicolo Allora il mio consiglio se volete recuperare energia nei camion elettrici è quello di utilizzare il freno motore Che praticamente cosa consiste Non è come il freno motore dei camion normali in realtà Praticamente il motore anche nelle auto infatti si utilizza solamente acceleratore e basta Perché quando tu alzi l'acceleratore in automatico parte il freno che va a rigenerare le batterie Ma non è un freno a pinze, è proprio il freno all'interno del motore Qui comunque guardando all'interno Cioè se notiamo questo Scania è praticamente un termico Se mi avessero messo i suoni del camion termico avrei detto che questo è un camion termico Non abbiamo neppure gli specchietti digitali Non vi preoccupate anche riguardo alla SCS Software La SCS Software, un po' che secondo camion elettrico io voglio vedere questo, quest'altro o quest'altra roba La SCS Software raga Ovviamente ha delle scadenze Secondo me aveva degli accordi con questi brand e doveva lanciarli questi camion Ma pensate che a 300 dipendenti ovviamente Sta già lavorando a tantissimi progetti Quello della Grecia, quello della mappa segreta che non vi posso dire Altre funzioni particolari come la ricarica del brand Ma insomma è un botto di novità raga Perché poi questi aggiornamenti sono gratuiti Ma cosa pretendiamo di più? Eurotrack simulator 2 l'abbiamo preso Nel 2012 a 4,99 euro Dopo 10 anni continuano ad aggiornarlo raga Ma cosa pretendiamo di più? Cosa pretendiamo di più? Aggiornamenti gratuiti Sì è vero ci sono i DLC Ma riguardano mappe, riguardano funzioni non necessarie nel gioco Quindi SCS Software Vuoi lanciare 10 camion elettrici? Fai pure, tanto sono gratis Man mano sta migliorando la grafica Anche qui Non può migliorare dall'oggi al domani la grafica raga Avete visto che sta facendo gradualmente E già che sta facendo gradualmente Sta facendo scattare i segnali di allarme agli utenti E guarda che il tuo hardware inizia a diventare vecchiotto Vedi che iniziano ad esserci dei lag inizia a pensare a comprare un computer La SCS Software poteva tranquillamente passare da una grafica a una grafica estremamente realistica E ovviamente poi metà degli utenti si ritrovano in un gioco che non possono più giocare Allora cosa sta facendo? Lo sta facendo gradualmente Quindi a me sta piacendo la strategia della SCS Software E io vi chiedo di sostenere anche questi loro pensieri Perché secondo me è l'unica azienda ad oggi che ci tiene veramente la propria community E proprio per questo io sono stato uno dei primi a sostenere questa azienda E continuerò a farlo Anzi A volte qualcuno mi scrive Ma Poderak Mai notato che ultimamente Tanti youtuber giocano a Eurotrack Simulator 2 Ma cosa pretendete che io vi dica? Ma io sono stra contento che Finalmente in Italia Continuano a giocare a questo gioco Anzi io spero veramente Tanti altri youtuber inizino A giocare a questo simulatore Perché è un gioco che merita Al di là del divertimento Inoltre incentiva i giovani A considerare un lavoro che È considerato zero Basti pensare A tutte quelle persone che ogni volta Suonano, bestemmiano contro I camionisti Perché fanno sorpassi in autostrada Non sapendo che grazie a quel camionista Hanno la pappa a tavola Nei supermercati E un gioco del genere Sicuramente si avvicina i giovani A quelle persone che in futuro Magari guarderanno i camionisti Con un occhio totalmente differente Quindi io adoro Eurotrack Continuerò a sostenere Eurotrack Voglio che tanti youtuber portino Eurotrack Non si tratta di concorrenza È un gioco che Secondo me ha del valore Poi In realtà è anche un modo per dialogare Io sono sicuro che tra di voi Molte persone in realtà non gli interessa Magari niente del camion Del gioco Gli interessa Sentire le persone parlare Quello che ha da dire Per esempio io in questo discorso Cosa sto dicendo Sono sicuro che tantissimi di voi Magari non commenteranno mai Non metteranno mai mi piace Ma i video di Eurotrack Se li guardano Perché magari dicono Ma vediamo cos'era da dire oggi Poderack Qualche stronzata Ce l'ha sicuro da dire E io sono assolutamente Qui contento Di raccontarvi Tutte le mie vicende Tutte le mie storie Attraverso un gioco Che ha segnato la mia infanzia E sta segnando anche Il mio futuro No non è vero Non sta segnando il mio futuro È semplicemente un passatempo Anzi mi dispiace un sacco Che Nel momento in cui arriva l'estate No? Ovviamente si sta avendo tempo Al computer Poi il lavoro Eurotrack Non gli sto dedicando Il tempo che vorrei Ho veramente in testa Un sacco di video Da portarvi Ma Ahimè il tempo Ahimè Il clima Tutto quanto Non riesco a portarvelo Però veramente Il mio amore per Eurotrack È immenso Spero che Veramente Sia un'azienda Che Sviluppi Bene il suo concetto Anzi Se un giorno ci fosse la possibilità Anche a livello lavorativo Magari che ne so Aprono un'azienda In Italia Sarai il primo a sostenerli Ecco Una filiale Magari Della SCS Software in Italia Sarebbe un sogno Realmente Sono molto felice Di questo gioco Anche se Detto chiaramente È un gioco Di nicchia Ok Cosa significa di nicchia È un gioco Che Non è ovviamente A livelli di GTA Probabilmente Non li raggiungerà mai Però Per essere di nicchia È un gioco Molto giocato Cioè Sopra la media Penso Oltre a Eurotrack Dopo c'è Farming Simulator Come gioco più giocato Sul mercato Dei simulatori Indie Attenzione Poi ovviamente Ci sono tanti altri giochi Altri Cioè Tipo Flight Simulator Ma Quello lì Ha la fortuna Di essere su console Eurotrack Per dire Ha un primato Che Ha il suo numero Di giocatori Escluse le console Che al momento Non esistono Cioè Sta facendo dei numeri Incredibili Ha sempre fatto Numeri incredibili Senza L'obbligo delle console Tante persone Dicono sempre Eh vabbè Ma Questo gioco Fallisce Di qua di là Perché non è sulle console Ma non è assolutamente vero È un gioco che Sicuramente con le console Esploderebbe Diventerebbe Rente Cioè Fatturati incredibili Farebbe Però Se hanno fatto questa scelta Non sono stupidi Chi c'è dietro A questa azienda Probabilmente Ha fatto i suoi conti Ha fatto le sue considerazioni Le sue strategie Nulla È al caso E noi Siamo bravi a giudicare Da occhi esterni Ma ovviamente Quando si tratta Di business Di questi livelli Perché alla fine È un business Ovviamente Non possiamo Basarci su Dati Su Presunzioni Dobbiamo Basarci su dati Concreti Mamma mia Ma oggi Che businessman Che dialoghi Vi sto facendo Avrò detto Tutte cavolate Avrò detto Tutte cavolate A poter Che non si è capito Niente di quello Che hai detto Ma va 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 A guidare Il tuo camion Elettrico Qua sta lavatrice Su due ruote Ma perché solamente Con i camion Elettrici È vero Comunque a livello Di autonomia No Probabilmente Adesso non più Ma scorrendo Man mano Dovrei vedere Oh Oddio È al 33% È al 33% Quanti chilometri Posso fare Ancora 198 Raga Oddio Ho allungato Talmente tanto Perché la consegna Era di fronte Poi ho detto Allunghiamo un po' Il tragitto Perché altrimenti Qua Il video Finisce subito Ah ecco Dovevo farlo all'inizio Lo sto facendo adesso Nessuno arriverà A 10 minuti Quindi i commenti Mi ritroverò Dove si ricarica il camion Dove si compra Il camion Non si compra Ecco A chi lo dirà Dite Guardati tutto il video Per guidare questo Scania Dovete andare I lavori Lavoro dipendente Magari mettete il filtro Scania O Renault Dipende quale camion Volete guidare E vedete C'è lo Scania Con questo simbolino Non si possono comprare Al momento Perché non hanno autonomia E soprattutto Non ci sono le colonnine Che verranno aggiunte Poi nel gioco Al momento in cui Le colonnine Verranno aggiunte I vicoli saranno Acquistabili Adesso a tutti coloro Che faranno La domanda Dove si acquista Se non lo trovo Di qua di là Guardati tutto il video Perché Poderac l'ha spiegato Comunque sono veramente sorpreso Di questo Mozza R5 Io penso di sceglierlo Come volante definitivo Per quest'anno almeno E buone notizie La corona Forse la cambio La corona forse la cambio E Un segreto tra di noi Non lo dite a nessuno Oh comunque raga A proposito di Fan Non fan E qualcuno di voi Vi incontro Ogni volta dico Oh mi raccomando Dopo aver fatto la foto Tagami su Instagram Mi arriverà mai la foto Mai Perché Non ne faccio più le foto Adesso scriverò Come farò un contratto Se Fai la foto Me la devi mandare Ok Che anche io voglio avere Un ricordo di voi Poderac prende il telefono Scattalo Oggi Oh Una volta non me lo porto il telefono Non me l'avrò portato il telefono Devo portare il cane fuori Ho detto tanto Sarò fuori mezz'ora Nel frattempo Si ricarica Non fa niente Raga mi ferma un fan E non riesco a far Oddio La batteria scarica Poderac ricaricala 87 km Oddio L'autonomia dice 83 Non so se ci arrivo alla fine Oddio Non so se ci arrivo alla fine Raga Metto 80 km Com'è 89 l'autonomia Rimanendo 80 Secondo me Anzi Mettiamo 80 Che ci rigeneriamo Attivando un po' di freno motore 76 Allora così dovremmo farcela Raga Dovremmo arrivare a destinazione Mamma mia che anzi I camion elettrici Non comprerò mai Un'auto elettrica Solo per No scherzo Palese quest'estate Mi comprerò l'auto elettrica No scherzo Però Effettivamente Mettono un po' d'ansia Dici Cavolo Devi pensare mentalmente In modo diverso Devi sapere che hai Un camion elettrico Devi agire di conseguenza Ma Per farvi capire Una cosa del genere Mi è successa Anche con L'auto a metano Raga L'auto a metano L'auto a metano Aveva questo problema Cioè A parte che davanti Ho la polizia Non posso fare il truffatore Dovevo fare la mia Mappa La mia road map Sapere dove sono le colonnine Del metano E poi è stata una presa In quel posto Per il metano In Italia Che poi la rete Oh Non frena Raga ti giuro Non frena Non frenava Perché non ha frenato Non lo so Si è rotto il cresconto Ok adesso Ah ok Niente Colpa mia Ho premuto l'acceleratore Distratto È stata una fregatura Il metano Perché All'inizio era L'alimentazione Del futuro E poi Non hanno più Aumentato l'infrastruttura Soprattutto in autostrada Poche colonnine Mentre per l'elettrico È stato un approccio Diversamente Diverso Cioè Se io considero Come hanno sviluppato L'elettrico Come hanno sviluppato Le colonnine Del metano Mi metto un po' Le mani nei capelli Un po' rosico Perché dico Cacchio Per il metano Ci avete messo tre anni Per fare due colonnine L'elettrico In un anno Avete fatto Parativamente Tutta la rete Autostradale Il problema dell'elettrico È il fatto che Costa quanto La benzina Se tu fai una ricarica Rapida In autostrada Paghi quanto La benzina Cioè Non c'è un risparmio Non c'è più La questione Prendo l'auto Elettrica Per risparmiare Ormai Prendo l'auto elettrica Per non inquinare Tra virgolette Buono Io questa cosa Delle auto elettriche Non la so Non so come si svilupperà Però so che Per esempio Lì per l'arrivo Sono 27 km Io ho 19 km Aiuto Sono senza elettricità Il mio camion Che figura faccio Allora È colpa mia Amici di Scania Non Mo vedi raga Arriva la lettera Di Scania Per cattiva pubblicità Il loro camion elettrico No Non è colpa Cioè è colpa mia Sì è colpa mia Raga Il viaggio È stato impostato Nel gioco In modo da Da arrivare a destinazione Solo che io Ho voluto allungare Per allungare il video Il problema È che allungando il video Allungando la strada Non arriva a destinazione Mi sa Cavoli Adesso vi faccio vedere Il trucchetto Nel caso Spero che ci sia una discesa Più che una salita Ma penso che sia una salita Alla prossima Allora adesso Basta un po' Poderak Stronzate Concentriamoci Sull'autonomia Siamo all'1% Raga Frena Poderak Frena Frena Così recuperi Un po' Non frenare troppo Però Che sennò Se sgasi 5 km Di autonomia Cavoli Siamo in salita Consuma un botto 5 km 4 3 per l'arrivo 4 di autonomia Aiuto Ti prego dimmi Che c'è una discesa Sta diventando ansioso Questo gameplay Poderak Io ho fatto Sto guardando questo video Per essere rilassato Tu mi stai mettendo ansia Perché Non so se arriverai A destinazione Ma in teoria si Cioè mancano 2 km Di all'arrivo Io ho 4 di autonomia Io non sto premendo più L'acceleratore Sto andando a inerzia Ti prego dimmi Che c'è una discesa Ti prego dimmi Che c'è una discesa Io Devo arrivare Non posso far fare Questa brutta figura Scania Mi denunciano Non mi fanno più guidare A parte Fa la collaborazione Con Scania No no Però Io adoro Scania Però Senza che vi offendiate Signore di Scania Io amo di più i mano Però Va bene lo stesso Qui freniamo Freno motore Ok Oddio Devo girare Oddio Devo girare Spegniamo Quanto manca Spegniamo il camion Così risparmiamo L'elettricità Ok lo riaccendiamo Ok lo riaccendiamo Adesso Accendiamo Quattro chilometri Raga forse Ce la facciamo Tre chilometri Di autonomia Dai siamo dietro L'azienda Ok Qualsiasi cosa succede adesso Nessun problema Perché siamo Dentro l'azienda Ecco Magari Non facciamo Consegna Complicata Facciamola Consegna Normale Se non vi dispiace Ok Andiamo al sicuro Te lo consegno qua E spero che Ehi Mi allunghi la prolunga Devo caricare il camion Oddio Oddio Devo fare retromarcia qua Oddio Devo fare retromarcia Ti prego dimmi di no Ti prego dimmi di no Devo fare retromarcia Non so se ho la batteria Per fare retromarcia Dimmi che ho la batteria Per fare retromarcia Ok Oh Non c'ho più Elettricità Oh Vabbè ragazzi Siamo arrivati a destinazione A pelo Mamma mia che ansia Vi raccomando Lasciatevi piace Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo al prossimo video Tutti i link in descrizione Devo volato del gioco Ciao